Ciao a tutti, spero che il convegno a Firenze sia andando bene. Io purtroppo non riesco a essere lì perché sono impegnato ai campionati italiani assoluti di nuoto. Io quel 7 dicembre siamo in partenza per i campionati mondiali ad Angzoo in Cina, dove difenderemo i colori della nazionale. La campagna che abbiamo iniziato a settembre sta andando molto bene. Sono molto contento, ho tante persone che mi scrivono e so che nel 2019 ci saranno tanti altri progetti. Quindi il lavoro è grande e staremo vicino alle persone che ne hanno bisogno. Ho saputo anche che nel 2019 ci sarà il congresso che state facendo lì a Firenze e Quariccione. La cosa mi rende molto orgoglioso perché è la città dove sono cresciuto e si mangia bene, è una bella città. Quindi starete bene sicuramente. In Romagna si vive bene. Vi faccio un grosso in bocca al lupo perché il lavoro che state facendo è grande e io ce la metterò tutta nel mio piccolo a darvi una mano. Vi saluto a tutti. Ciao!